La differenza sono indubbiamente le opportunità di lavoro, questa è proprio una cosa che è chiara a tutti, in Italia farlo architetto è una battaglia. Da quel punto di vista è una soddisfazione immensa perché sai che il tuo lavoro viene premiato e ogni giorno avere la sensazione che se fai qualcosa di buono stai costruendo il tuo futuro e ci sono prospettive di carriera eccetera eccetera, secondo me questa è indubbiamente la differenza maggiore. Un'associazione che si rivolge ai giovani architetti, graphic designer, interior designer italiani, persone che come me otto anni fa adesso si trovano nella situazione di guardare ad altre opportunità, cercare nuove esperienze lavorative e ovviamente stanno pensando all'Australia come la destinazione. Questo nostro progetto di design network Australia si è incentrato sull'aiutare a trovare una strada per venire qui in Australia sia per gli individui che per le aziende ma lo stiamo facendo anche per noi in realtà perché noi adesso siamo padroni del nostro destino.